Dopo diversi anni si porta a compimento la realizzazione dell'isola ecologica in località Malaginia ad Agropoli. Nonostante i diversi ricorsi al TAR e le polemiche che si sono susseguite negli anni, questa mattina si è inaugurata la presenza del primo cittadino Adamo Coppola, del direttore generale della SARIM Silvio Petrone e di diversi amministratori si è inaugurato il centro di raccolta comunale della città di Agropoli. È chiaro che da un punto di vista di logistica la ditta che oggi lavora ma anche quella che lavorerà in futuro avrà finalmente un punto dove potersi raccordare, dove poter posizionare dei cazzoni per raccogliere rifiuti con brandi, comunque tutti rifiuti differenziati, qua non è, che lo chiariamo per l'ennesima volta se ne fosse necessità, non è una discarica ma un centro di raccolto di rifiuti differenziati, qua non arrivano rifiuti misteri, ma soltanto rifiuti differenziati. Questo lo farà la ditta nel coordinamento della sua attività ma lo potranno fare dal primo settembre anche i cittadini, potranno portare i rifiuti ingombranti senza attendere, se vorranno attendere il recupero a casa lo faranno, se vorranno consegnarlo subito potranno venire qui direttamente e consegnarlo all'isola ecologica, potranno consegnare gli sfalci di potatura e tutta una serie di altri rifiuti sempre differenziati, sempre deparati, sempre divisi, che potranno consegnare direttamente qui al centro di raccolta. L'obiettivo diciamo è chiaro di lungo periodo, è quello che magari in futuro riusciremo a mettere in modo un meccanismo in cui i cittadini consegneranno il rifiuto e pagheranno la tasa sulla base della produzione stessa, questo è un progetto di lungo periodo, ma in questa fase era importante creare una logistica al fine di non girare per la città, svolgere alcune operazioni di svuotamento, noi cosa facevamo? L'umido in particolare viene raccolto con i camion piccoli che possono girare per la città, poi devono essere messi nei camion più grandi e lì nei camion più grandi poi partono per lo smaltimento al di fuori della città di Agropoli. Qui abbiamo finalmente una rampa dove i camion piccoli potranno salire in tutta sicurezza, potranno svuotare nei cassoni o nei camion più grandi senza perdita di percolato e qualora dove esserci un po' di caduto di percolato, la struttura che abbiamo è da un punto di vista ambientale efficiente al 100%, quindi non ci sarà nessuna possibilità di creare danno per l'ambiente, ecco perché credo sia un passo in avanti importante e siamo felici oggi di poterlo inaugurare. Per concludere tu accennavi alle polemiche che ci sono state, è chiaro quando si decide si creano sempre degli scontenti, credo che il posto che abbiamo scelto è lontanissimo dalle abitazioni come i cittadini possono vedere, quindi è un punto che secondo noi non dà fastidio a nessuno, però anche le polemiche, io ne le prendiamo positivamente perché le polemiche e anche i ricorsi da un punto di vista amministrativo hanno ulteriormente rafforzato la pratica perché se c'erano dei difetti sarebbero scorti nei vari appelli nei tribunali amministrativi. Avendo vinto regolarmente ogni contenzioso abbiamo dimostrato ancora di più se c'è fosse necessità che la procedura era ben fatta e che la struttura è stata realizzata nella maniera migliore. È stata davvero un'opera molto importante per un miglioramento della performance ambientale. Il centro di raccolto comunale oppure come viene comunemente chiamato l'isola ecologica serve moltissimo per migliorare la percentuale di raccolta differenziata ma non soltanto, anche per avere una migliore qualità della città. Infatti avendo questo centro di raccolto come diceva lei, le persone possono recarsi all'isola ecologica e disfarsi di quei rifiuti che potrebbero avere delle difficoltà a conferirlo al servizio pubblico, quali potrebbero essere gli ingombranti ma non solo, anche la carta, il cartone, tutti quei rifiuti che possono essere avviati al recupero. Quello che mi preme dire è che l'isola ecologica va proprio in direzione non soltanto del miglioramento sterile della percentuale di raccolta differenziata ma va proprio in direzione di un miglioramento ambientale generalizzato per la città che se ne dota. Quindi è una cosa molto molto importante per l'ambiente. La città di Agropoli potrà già da domani conferire qui presso l'isola ecologica gli ingombranti, gli esfalci d'erba e quant'altro? Per adesso no, nel senso da settembre sarà aperta al pubblico, per adesso sarà una fase di start-up, sarà utilizzata soltanto dall'azienda Sarim come logistica per gestire i rifiuti e in effetti anche questo è un miglioramento perché immaginiamo che prima senza l'isola ecologica bisognava raccogliere e trasferirlo direttamente agli impianti anche con quantità diciamo piccole. Invece adesso si possono ottimizzare i trasporti e quindi si può ottimizzare anche l'emissione di CO2, quindi una minore emissione di CO2 con dei trasporti minori verso gli impianti.